Oggi vi parlo della nostra casa, che non è solo il luogo che ci è più caro, quello che ci unisce ai nostri affetti, ma è anche il primo investimento delle famiglie. L'80% degli italiani vive in una casa di proprietà, una casa che quasi sempre è stata acquistata con i risparmi di una vita e chiedendo un mutuo alle banche. Per noi la casa è sacra e ciascuno dovrebbe avere la possibilità di acquistarne una. Noi con il nostro programma ci impegniamo a non consentire mai, mai che venga applicata un'imposta patrimoniale sulla casa, che lo voglio ripetere, per noi è davvero sacra. Ci impegniamo a fare il contrario di quanto vorrebbe fare la sinistra, ci impegniamo a ridurre la pressione fiscale sul comparto immobiliare a partire dall'eliminazione dell'Imu per gli immobili occupati o inagibili e a introdurre una cedolare secca, cioè una tassa fissa e piatta per tutti gli affitti. Per rilanciare il mercato immobiliare e consentire a tutti di comprare una casa e anche per rilanciare l'edilizia, che è un settore trainante della nostra economia, noi introdurremo anche una tassazione unica per l'acquisto della prima casa, e cioè un'imposta di solo il 2%. Chi acquista una casa spesso è una giovane copia, lo fa investendo soldi sui quali ha già pagato molte tasse e quindi non può essere gravata da nuove imposte. Domenica 25 settembre potrete cambiare la vostra storia. In che modo? Venendo a votare, a votare per noi, a votare per Forza Italia.